A Rimini il raduno annuale dei City Angels. Io mi impegno ad essere un City Angel esemplare. Lo prometto solennemente. Os! Bravi! Hanno dai 20 ai 45 anni, sono più donne che uomini, tutti volontari, pronti a scendere in strada in vent'un città italiane, in due svizzere, per occuparsi di chi in strada ci vive o tenta di sopravvivere. Qualsiasi persona che incontriamo che ha bisogno, prestiamo supporto. Se foste una di queste persone sapreste che sono i City Angels a Rimini che si sono incontrati per il loro raduno nazionale. Che sia un senza tetto, che sia la vecchietta con le borse pesanti della spesa, la ragazza che ha paura di andare da sola in alcuni posti di notte e poi se vediamo qualcuno che fa del male a qualcun altro non ci voltiamo dall'altra parte ma interveniamo. Diamo coperte, vestiti, sacchiapello, ok? Grazie! Prego! Principalmente hanno bisogno di essere ascoltati, di condividere con noi la giornata. Fondati a Milano nel 1994, oggi i City Angels sono 600. Dalla Lombardia sono arrivati fino alla Sicilia, a Palermo, dove si sono uniti all'associazione Paolo Borsellino. Vogliamo portare l'amore del giudice Paolo, grazie anche ai City Angels, attraverso la nostra città. Vedi, basco blu, maglietta rossa e sai che è un amico.